Siete su Radio Roma Ed eccoci nuovamente in studio naturalmente avevo prima accennato appunto questo film che inaugurerà il primo Chuck appunto lunedì prossimo a Guidonia avevo parlato appunto di un regista molto attento ai fatti di cronaca soprattutto dopo L'uomo spezzato e il lupo sto parlando di Stefano Calvagna benvenuto a Radio Roma Stefano, ciao Ciao, ciao a tutti stai parlando infatti anche dell'uomo spezzato che raccontava una storia di un professore accusato di molestie sessuali anche quella sembra una storia attuale come quella che starò per affrontare che è il peso dell'aria e che è un film sull'usura un'altra tematica diciamo abbastanza inquietante e devo dire che proprio ieri leggevo che c'era stata veramente una retata proprio su Roma insomma è una piaga che da anni insomma ne parlano tanto e hanno fatto barbose da ule rotonde ma poi non si è mai ottenuto nulla di concreto io per quanto mi concerne tratto sempre argomentazioni di cronaca e quindi ho cercato questa volta di spingermi su questa tematica che penso vada comunque portata sullo schermo è un film che rappresenta una storia vera che non è andata troppo in risalto alle cronache questo ho visto proprio per la paura che le volte si cela dietro queste situazioni ecco di usura perché è diventata veramente una cosa incredibile però purtroppo è un dato di fatto quelle poche interviste che si vedono in televisione si vedono sempre con il volto coperto di spalle insomma ecco questo fa capire che c'è veramente il terrore vero e poi con le problematiche che ci sono dopo l'avvento dell'euro insomma la crisi e la precarietà insomma ci sono tempi più finanziari che vengono avanti ci daranno tantissimi annunci dappertutto dalla metro fino ad arrivare sui giornali quotidiani più importanti a riviste anche tranquille di settimanali proprio che dovrebbero essere quelli del piacere estivo di guardare qualche cosa di mondanità poi alla fine invece riscontriamo tantissimi tantissimi annunci di queste copse autotali che poi magari ci saranno anche persone oneste non penso sia tutto così però purtroppo molto spesso poi si cade nella rete di personaggi inquietanti cioè spesso si tratta di pubblicità incannevole insomma beh in effetti penso che alla fine non vengono messi in chiaro troppe cose perché sennò poi non ci ritroviamo non ci saremmo mai trovati a sentire ascoltare o a leggere cose brutte all'interno delle cronache è qualcosa che purtroppo comporta un rischio continuo per quanto riguarda i giovani per quanto riguarda chi vuole comunque anche acquistare o una macchina o una casa che si avvicina alle banche e poi magari le banche non gli danno tutte queste agevolazioni lo so bene io che per prendere un moto ho messo sei mesi con tutte magari le credenziali che avevo però è stata una cosa abbastanza dura e difficile quindi affrontando qualcosa così scusate se sentite che passano gli aerei non sono a Fiumicino ma vicino a casa mia c'è l'aeroporto di Campino quindi intanto si sente qualche volo e quindi ecco dicevo che questa cosa va comunque messa sicuramente sugli schermi perché è un film di cronaca un film importante il peso dell'aria per me è un punto forte che dopo il lupo insomma che se ne è parlato molto si è polemizzato tanto questa volta si è data una tematica sociale importante per far risolvere tantissime persone diciamo che tu in qualche modo affronti i casi di cronaca insomma diciamo affronti il tuo lavoro ecco la tua parte professionale come parallelamente come noi ci occupiamo di giornalismo noi in genere ci occupiamo sempre di quelli che sono i problemi che vanno in qualche modo a calpestare spesso a schiacciare soprattutto le cellule più debili del suo tessuto sociale questo naturalmente l'usura tra l'altro è un fenomeno in crescita incredibilmente nonostante l'opera repressiva da parte delle forze di magistratura e forze dell'ordine è piuttosto agguerrita però è in crescita vogliamo analizzare innanzitutto quelli che sono gli elementi proprio a livello sociale che favoriscono l'usura perché naturalmente c'è stato un cambio proprio nella vita sociale di tutti i giorni diciamo dall'euro in poi mettiamola così più o meno come data e forse anche la legge Biaggi la pregherita nel lavoro da quando poi nel 97 è stato legalizzato il lavoro in prestito insomma tutta una serie di cose tu in che modo li affronti nel tuo film? Beh io li affronto con una coppia di giovani sposi che praticamente si ritrovano allora lei è laureata ma precaria quindi non trova lavoro e lui viene licenziato da un autosalone si ritrova senza lavoro incontra un suo vecchio compagno di liceo casualmente all'ippodromo e lì avviene ecco il contatto con non l'amico di vecchia data ma con poi il futuro problema della sua vita perché poi è colui che gli presterà dei soldi per un'attività che voleva investire in questa multiproprietà grazie a un consiglio degli suoi ex colleghi quando scoprono che andando lì non trovano niente il terreno è vuoto sottoposto a sequestro quindi era stata la classica sola come diciamo a Roma lui si ritrova con un prestito preso da queste persone e ovviamente paga lo scotto di un primo di un amico quindi moralmente abbattuto da questo la fiducia che non mi aveva fatto neanche leggere il contratto bene con le clausole di un 60% a settimana di interessi questa storia vera che mi è stata raccontata durante una mia permanenza a un centro benessere vicino Pisa e quindi stavo lì e ho incontrato questa coppia e la persona mi ha raccontato durante una serata questa situazione che poi ho preso spunto per farci un film ma capita molto spesso che mi fermo e dico ho già una storia veramente che potresti fare un film è una cosa che mi capita questa volta invece è stata veramente così perché poi mi ha colpito a tal punto che sono rimasto 20 giorni in più nel centro benessere e ho cominciato ad aprire il file e ho scritto questa sceneggiatura quindi comunque la famosa idea che serve per qualsiasi sceneggiatura poi naturalmente per il soggetto e poi la sceneggiatura chiaramente infatti io vivo proprio di queste cose comunque di fatti reali per poi portarli sul grande schermo perché penso che il cinema deve essere verità a differenza magari ecco la fiction delle volte edulcorata la realtà ma secondo me sui fatti che vengono portati sul grande schermo a parte il discorso della commedia che poi può essere anche una commedia su fatti reali perché no e quella che poi fanno più ridere e anche il discorso del drammatico i film di cronaca quelli che insomma che affronto io vengono presi sempre da da fattori esterni che comunque vivo o mi sento raccontare quindi metto sempre delle storie importanti e questo è molto penso forte da poter digerire alle volte sullo schermo si nascono delle polemiche ma penso sia l'unico modo per far arrivare un messaggio veramente veramente forte Stefano a parte la tua sensibilità artistica e professionale che ti spinge a parlare di queste delle storie diciamo di cronaca ma soprattutto quelle dove c'è bisogno poi per chi sta dietro la macchina di prese di una grande sensibilità soprattutto in qualche modo bisogna forse anche indossare i panni dei personaggi che si vanno a rappresentare qual è qualche altro motivo che ti ha spinto a occuparti di case di cronaca perché questa linea professionale beh diciamo il fattore è nato nel 92 quando mi ha armato nel negozio di mio padre e mi spararono su una gamba durante questo contesto quindi lì conobbi proprio faccia i veri criminali che comunque hanno delle loro vite hanno dei loro anche hobby e tutto quello che purtroppo non riusciamo a vedere nelle fiction tv perché siamo invasi di distretti di polizia ma non vediamo mai l'altra parte il cattivo lo vediamo in un minuto lo ammazzano gli sparano oppure sparisce questa è una cosa che ripeto sempre bisogna vedere l'altra parte soprattutto conoscerla e capire il perché e quindi facendo un viaggio ritroso come ho fatto nelle mie storie che ho affrontato nel passato da senza paura all'uomo spezzato all'ultimo Liboni quindi devo dire che in tutti questi contesti compreso quello che sarà poi il peso dell'aria faccio vedere ecco la parte sì dell'usurato ma anche dell'usuraio immagino che nella storia di Liboni tu abbia rivisto abbondantemente la scena che tu hai vissuto sicuramente beh sì da un certo punto di vista sì forse da un'ottica differente diciamo io ho preso un colpo d'arma da fuoco su una gamba lui l'ha preso sul collo quindi insomma poi è stato mortale però ecco diciamo che non ho